questo è lo spazio galla della libreria galla di vicenza in corso palladio 11 in questo spazio riprenderò gli appuntamenti mensili con i venerdì della lettura tutti alle ore 18 venerdì 6 ottobre riprenderò generazione beata una lezione lettura sui poeti della big generation il 10 novembre leggerò invece alcune tra le più belle poesie di pablo neruda a 50 anni dalla sua morte il 15 dicembre leggerò alcuni brani tratti dai romanzi italiani editi nel 1963 questo evento è in collaborazione con la biblioteca civica di passato del grado alla mia sinistra ci sarà uno schermo per le video proiezioni alla mia destra ci sarà la postazione lettura unileggio e il microfono in fondo alla sala un faro teatrale per illuminare la postazione lettura la sala sarà completamente oscurata e si creerà così un'atmosfera di attenzione ci vediamo allora il 6 ottobre alle ore 18 e come diceva godà tutto è pronto non resta che cominciare il film a dimenticavo prenotate perché il luogo è piccolo si può prenotare telefonando al numero che vedete in sovraimpressione oppure mandando un mail a vicenza chiocciola libraccio punti e quindi Grazie a tutti.